Sempre parlando di Padre Pio, il padre de Robert disse che per chi vuole chiedere la grazia o una grazia non esiste preghiera migliore che la novena irresistibile al Sacro Cuore di Gesù e dice anche che è stato lo stesso Gesù a dettare questa novena a Padre Pio. Infatti in questa novena Padre Pio mette diversi, scrive diversi cioè che raccolgono le parole dette da Gesù durante la sua vita e quindi la novena l'ho cercata su Google e voglio condividerla con voi. Quindi magari se il padre di Robert la consiglia, dice di pregare questa preghiera per chiedere una grazia, io poi nella nella descrizione, metterò il link su dove l'ho trovata. Quindi voglio leggervi questa novena. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia. E poi si dicono un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre. Quindi, Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Sino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, e lì ve la concederà. Ecco che al Padre tuo, nel tuo nome, io chiedo la grazia. E qui bisogna dire la grazia che si chiede. Quindi dopo aver chiesto la grazia, si dicono di nuovo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai. Ecco che appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole, io chiedo la grazia e qui bisogna di nuovo chiedere la grazia. Dopodiché si diranno di nuovo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre. Quindi, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, e adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Sacro cuore di Gesù, confido e spero in te. O sacro cuore di Gesù, qui una cosa sola è impossibile, cioè quella di non avere compassione degli infelici. Abbi pietà di noi miseri peccatori e accordaci le grazie che ti domandiamo. Per mezzo dell'immacolato cuore di Maria, tua e nostra madre, San Giuseppe, amico del Sacro Cuore di Gesù, prega per noi. E qui si dice per completare un Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Osso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo esterino. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.